Noi l'abbiamo sempre fatto in tre, non so cosa... No, mi sa che non ti fa salire Mi fa salire, dici? No, se è capito che si triggera già la piattaforma, si diffa quella luce giù La saluta mi serve da reggio Hello Oh Quindi mi serve una nell'ultima piramide degli Astori, mando Quella in linea del deserto ho capito dov'è, l'altra no Devo dare un piatto Aspetta, qua mi tolgo la musica raga che si... Oddio, ho rotto il gioco raga Che hai fatto? Se ti diffano il coso poi si rende la storia Veramente? Qua è qua è qua, blechi l'hai dimenticato Qua ci vuole di lui Ho preso poi da scuola Porca troia Sì, mi fanno già malissimo a me raga Vabbè che so... vabbè Penso che l'ho trollata però Ne servono altre serve a posto Dovrei essere good Noi gliela faccio al suo nome sul favore Facciamo l'oscuro Il mio streaming per ferito è sempre qua Bella Fabio Fanno un colpino di cose E poi chiudiamo... vabbè Ne hai dimenticato una? Ah no, ok Fate la luce ora Fai tutto luce Fai te? Vai 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 Eeeh... più che altro che... Non so come attivarlo Vai vai, sparando Sparando Ah sparando, ok Ok, let's go Cambio le modifiche Let's go Open La musichina comunque è bellissima Ora si vaffo No, la musichina non l'ho sentita facendo da... È vero Io l'ho... Adesso la me... Eh io l'ho attivata ma è molto... molto carina Molto cringe, eh... cringe nel senso Molto... Cringe 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 un'altra cosa Gasa un po' Fosse mi guarda Non so Devo stare vicino ai nemici, vero? Per... Riavere la granata Serve Devo toccare vicino ai nemici, sì Perché avere la... Il melee Non la granata Sì, sì, sì In caso ditemi la pozzetta Quando metterla Yes Quando... Sei in crisi Ok Adesso, anche adesso L'oxyama non si tradisce, grazie Fabio È bellissima la musica, raga Eccala Se vuoi metterla Mamma mia che male però Quanto sai di luce da nade? 1036 No, questo cade Scemo Hai preso quelle scure Ne manca uno Ce l'hai da qua? Ok Ok, prendo io le altre tre scure E' una qua, una qua, una qua Dove sono io Arrivo E ne serve ancora una So fare luce Ok L'oscurità la faccio io Ok Andasse giusto Badola Ok Solo quelle luci servono No, servono due di luce Ok, l'altra proprio prendo io Fasi di danno adesso, no? No Manca Oh, no, ancora due Ho tirato la freccia Non mi piace ora Ok, di luce Yes Qua Serve Prendila tu Ce ne sono sei Allora, manca una Arrivo Sono tutte dietro di la Eh, qui da me è l'ultima No Metti la bozza Danno Dove la metto? Dove vuoi Metto la bolla qui dietro Proprio qua si è messo Bastard Vedete il buff della bolla La bolla Così lui ci salta addosso Questa che roba Infatti Sì, paura a sparare con la vetta Eh, niente Eh, niente Si butta nella mia bolla Straz Buttate di sotto Bella Niente Guardi giù Dai Immunità Tonks Qua è morto con l'immunità Dammi sto pesante Oh, mi ha dato lì che lo canone portale Non so che va bene dopo la mia data 1000 scivolata calibrata furia Top Che god sta roba Calibro pieno Pregio stabilità God sta roba Ma la tengo Beh che è 180 Si però Si butta via Dai Let's go Vediamo dentro a sta cassa ora Come via sta roba Se soffri di Epilessia fotosensibile Sei tipo morto Era tipo in un bordo Metà la cassa Se volete voi Intanto fate le piaghe Vado ricapito vè Io seguo il signor Blacky Sto cercando le piaghe Eccole Vieni con me Ah no Questa l'ho Eccole Vieni con me La madonna La problem Va malissimo Perché sono sempre a 1040 Però Il problema è dopo Ma alla fine Nei dovrei problemi al boss Più che altro I diritti fanno veramente tanto male Eh lo so Vabbè ma Al 1036 Ancora è Abbastanza gestibile Il problema è Se sia ancora più basso Eh i day one Sono entrato al 1029 Nella Bella I bon Grazie mille per il follow Caro Per fortuna con i drop Sono anche verdi Eeeh Vabbè Io mi sento perso Non trovo la cassa E' un posto tipo a questo Quanto cazzo sta Ah è qui Ma sono un perrega E' trovata Vabbè io sono un pirla Che sparo con la vetta Però vabbè Trovata? Sì sì è qui Ok Che drop sta roba Aspetta che Si smostito avanti Ah E' un trick e lo stand cannon Ma che scam Arrivo Gli serpe che Che è stato un grande A farla farle in solo Aspetta Il cannone portatile Ikeros Potrebbe essere Ma quanto al mondo Eh serps Secondo In team Con il signor stonx E con Ah Ok me la son persa Ok qua dietro Qui Qui dentro E che scam What the fuck Ma che Ho capito Altri che lo sa anche a me E niente Mi dissocio Disinstallo il gioco Oh no Sono bloccato Andato con genesi In interruzione violenta Questo posto dovrei Mi chiedono Ehm Non so dallo spawn ragazzi Ehm Comunque se Vedete le piastre Verso sinistra Dovrebbe essere ragazzi Dovrebbe essere qui Lì l'entrata Credo E Dovrebbe essere qua a sinistra Teoria Comunque lo vedete Perché avete questa cosa Di Come dire Avete questo appunto Di riferimento Sono di norme No come ritorno di norme Ma ho dato un drop Non l'ho infuso Perché era il 1030 Matti Ce l'ho lì Che lo ce l'ho Il 1033 Che pianeta Torme Non è un pianeta Il dungeon Questo Abbiamo detto Che l'ultima È nella piramide Dov'è che hai detto Matti nella piramide È vero E teoricamente Bisogna seguire la sua direzione Dove va no? L'ultima piramide È prima del boss finale Ok Mamma mia Quante piaghe Mi stanno stalkerando Tutti qua Stalkerando Allora Mia bella madolina La via è tutta aperta Bellalo Qualcuno ha le armature Del dungeon Dovrebbe doppare Solo il boss finale No? Se non è erro No Anche gli step Anche gli step prima Potrò fare Il boss Ha un'armatura Esclusiva Ecco la liga Quell'ho mostrato Black e con La storia Quella ancora Bellissimo Ahia Nel dungeon Ci sono due set Di armatura Sì Il boss Troppo la roba Daito La liga Che avevano mostrato Come si chiama Ad alto Non so se on'è Mai Guardi che è musica Ragazzi Le musica comunque Sono sempre Ready? Ci siamo Lucia Dove l'hai visto il titolo? Ah ok C'è Tolan Tolan tutto in franco Qua c'è un echo Oh Gesù Eh ma ti ha dato Un cartone in faccia Prendi te serpe Ce l'hai già? No Prendi tu Eh ne ho preso una io Raga Vai prendila te Prendila te Le altre sono lì In fondo Ok Ok devo andare di là Ok Middle Qui dovrebbe da spawn up Gira Ah mi viene da vomitare Lo svarione degli anelli Dopo cena mi viene da vomitare Eh luce Ok Cecchini occhio Un cavaliere L'ha già in fondo No l'ho fatto da Ho fatto sei caricatori E non Ho fatto le altre tre libri Arrivo Dove era? Qua? Vieni Arriva arrivo Come ambientazione è bellissima ragazzi Ma anche come le musiche Raga probabilmente molti non le hanno sentite Perché è scura Eh è scura C'è chi Prenda 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 Altri due giri L'ambientazione è la più bella secondo te Se la gioca col trono però sì Trono secondo me è insuperabile E sempre da scura Scura raga Gli assi Più i cecchini Che fanno male Fatto Faccio niente al cavaliere Ah mi capo le tre particelle Sì Qua serve Una è caduta Ah i cecchini Ah l'ho visto Ok Let's go Let's go Si vede che non stai facendo pvp Eh lo so Vedi che Quando faccio complimenti al gioco Non è mai per il pvp Mai Scusa Ma sono due particelle Qua da me Ok Dov'è? Lì Post room Sì 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 No Sono i due tizi sudati adesso Ok Bolla dietro E faccio la pozzetta anche? Yes Vabbè Di burro così Sì Questi non c'è una nulla di vera Andiamo che a metà Spada Oh mi ha dato la scelta 2.0 Sto Un bar assurda Continuo autocaricante Estrazione cellare E faccio con la scelta Mi da sta andando tutte secondarie ragazzi Io mi sto cominciando a odiare tutto quanto Miniboss comunque più forti del boss finale Veramente vatti A livello luce siete Io sono quasi al 1040 Ma Serps e Blacky sono al 1800 Serps 1060 Dov'è? Qua? No Dov'è che sia? Sopra la gasta C'è il percorso Se ritorno indietro Ah già Jesus Stavo correndo Mi sono spaventato Era tutto Ecco vediamo adesso Se si apre anche senza fare niente Andiamo diretto Praticamente sì Dovrebbe workare Hai detto che c'è una piramide Per la seconda cassa raga Prima del boss finale È tipo Nel mare Penso per piramide Intende tipo le piattaforme In cui puoi saltare Credi sì Sì che funziona Ah è possibile che hai dentro Una di quelle robe Tanto le skipi Di norma No vabbè sono al 1060 Praticamente Io sono al 1040 Ah già che devo prendere la storia qui Questo è veramente Tron Legacy Sto pezzo Mamma mia Serpe Rischia No è incontrollabile sto coso raga Ah questa è l'ambientazione più bella comunque Questa storia piccolina è incontrollabile Raga aiutate Aspetta che io non mi ricordo la strada Poi poi io mi schianto Mi schianto proprio facile facile Segui le strisce Che niente È che con MK con la storia non sono molto Ragazzi sentite la musica No no vado Anche a piedi secondo me mi ammazzo di più a piedi Che con me Si è più probabile Rompono di più il cazzo a piedi Che con la storia Vabbè comunque ambientazione a mani basse Se la gioca proprio di poco col trono infranto Cioè forse è anche più bella questa Dobbiamo capire quanto vicina è sta cassa Vado a rispittarla Di qua da piedi Non dirmi che ti fa respawnare all'inizio Questo ti rianimo io Blake Ma devo scendere Here we go E qua come facciamo Venga venga Quindi è la piramide prima del boss finale Quindi dovrebbe essere quella là in fondo no? Qua devi stendere tu Serbs? Non lo so Io provo a far piedi Ma non so dove possa essere Sto prendendo già da qui per Prevenire la cassa Solo flawless Rimani i grangolini che ti risucchiano Mi ha detto Matti Prima di quello Niente Blake Ce l'ho fatta 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 C'ero quasi Wipe Asgardia E niente Mi fai iniziare da capo urlo Mi insegna a guidar cheat Eh se Per 0.25 Insomma 17.27 Eh prima di sto coso Se non è così scendo drop Non lo so Vediamo Quindi in una di queste piramidi Dovrebbe essere Se non è in quella lì Questa raga dove sto tirando la nady adesso Eh non proprio così però Eh dove serve Eh mi sa di sì È quella la mia sinistra vero? Credo di sì Ed è l'unica piramide Prima del Eh non so se ci arrivo però Ah no quella dopo Mi han detto Qual è quella dopo? C'è anche una dopo? No c'è Sono confuso Google Io se proverò a farla solo flawless Penso che wiperò sempre qua Sono flawless La farò quando arriverò al 1360 di luce Eh tra un anno Ho capito dov'è Dov'è? È dentro sto coso Ma non so se ci possiamo andare Ci moriamo male Ah bisogna andare con la store Per forza con la store Aspetta Arrivo arrivo Tu sei titano Prendi la super Non ce l'hai La super Ma come ce l'arrivo? Sono da vuoto Non è la spada Mettiti No ragazzi io uso Uso Aspetta che si faccia vedere Eh però ci arrivi te Metto la dumbade Aspetta che mi devo mettere i calp Mi metto mi scondo i calp Ok Dovrebbe essere qui Dovrebbe essere qui No con i calp Non ci arrivi mai Sì comunque dovrebbe essere Ma ragà ma basta che Ragazzi Bleghi Bleghi basta che vai a destra E prendi sopra il coso No? Sopra E ti porto Se vai su quella piattaforma Ti succhia Automaticamente? Forse sul Devi passare in mezzo Infatti non potete risalire da qui Con la storia secondo me ce la fai Adesso provo Aspetta Ti passi qua no No di qua non ce la fai mai a risalire Ma ci provo Aspetta Pazzo Quello stregone forse sto sotto è fattibile Allora Vediamo un po' Se hai una spada forse ce la fai Non lo so Con la storia ce la fai Con la storia ce la fai Ah ok Faccio una cosa io ragazzi Aspettate un attimo Vado di Dumblade No no ma con la storia ce la fai Ce la fate io Ah ok Praticamente scegli su quella piattaforma lì Però sul lato sinistro Se no ti succhia E niente Volevo aspettare 20 secondi E staremo qui molto tempo Fai attenzione a non farti risucchiare Mi metto tutto a sinistra Il mio problema è usare MK No ragazzi No Il colpo di vetta Volevo Volevo uccidere i mobs E vabbè ragazzi Pensa a fare la solo flawless La solo flawless E poi uccidermi Così Ok ma hai risucchiato Vabbè Rip cassa Vabbè ragazzi Dov'è sta cassa? Ma non ci sono passato sopra Vabbè dai Dovrebbe essere qui nell'angolo Io mi dissocio da tutto Fammi ritornare indietro gioco Tu mi fai ritornare indietro Wow ma qui c'è un occhio Bella cassa Fammi ritornare indietro Fammi E sopra teoricamente Eccolo gli esseri Bello bello Ma dai ma mi hai risucchiato Ma io voglio vedere che c'è giù Oh c'è qualcosa C'è un occhio Yes Secondo me è una quest Probabilissimo Sarà una quest Una roba Stile uova Tutti morti Mi sono buttato su Facciamo wipe ragazzi Così non spawno dal boss No 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 Infatti io sono qua Niente Rip cassa Però almeno sappiamo dov'è Sono tipo le uova Dici matti Mi ha dato uno glock Serpa Che scam Ah il drop Si A me l'ho dato Io avevo un pass Non so Ti ha dato? No Ci sono i drop di Tarko Siete vicini Sono degli occhi Ma penso sia una roba Boh Non lo so Tanto un attimo Che devo ricambiarmi Ma qua Cos'è? Tutto luce Allora quindi Prendiamo Una alla volta Spona l'orco Buttiamo giù l'orco E così via Poi c'è la fase di danno E niente Cerchiamo di pulire Tipo subito E poi abbiamo subito Un lato Così poi abbiamo Tutti rimuove Ci siamo Yep 10 Tolland Portiamo da destra Yes Perchè io mi overshieldo Perchè Paura Hai preso Te ne serve un'altra No Sono a post Poi c'è un cavaliere ecco Che m'ha Decisamente distrutto Arrivo Facciamo l'orco Ma tipo one shotato Me ne manca Me ne manca una Eh Tanto c'è il cavaliere qua Ahia Quello è lì C'è l'orco raga C'è l'orco raga Andiamo in the middle Kingdom 3 Tipo speed Eh Faccio Faccio la pozzetta Eh No Metto la bolla All'inizio Ok Eh Sparo La freccia Andiamo a destra Prima Subito a destra E metto la bolla lì Occhio che Vi prende pure in bolla Quando parla No Guardate Mi ha buttato Mi ha buttato Mi sono girato Mi sono girato E l'ha tifato Sì Continuo a far danno Lo sei ancora spostato E' l'ultima fase Faccio la pozzetta A sto punto Che tanto rimane un attimo Fermo lì Yes Yap 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 I Mi ha riportato Puoi metterlo già qui, penso No, vabbè Bene, una fase Non penso, facciamo one phase Non ce la credo Ah no, non mi ha portato ma direttamente ucciso Mancava la granata da vuoto qua C'era un debuff da one phase Guarda che roba ragazzi, mi ha sfondato Mancava un debuff L'anarchy comunque è mostruosa in DPS, cioè è allucinante C'è qualche speciale in G Questo fa la mossa quella finale Questa non te le dà, no? No, non ce l'ho la morte Un colpo di vetta E' arrivato Un nuovo di Anet Che è uscita Con la stanza in cui si muore al centro Cosa abbiamo? Ho preso due scure? Tutte scure sono Ok, perfetto Altre scure di qui Arrivo E' finito Blacky? Eh sì, perché ce l'ho già Uh, cosa mi ha palso di fianco? Oddio l'orco, vero? No, sono morto Occhio Mi serve una particella oscura Sì, prendo questo Eh, lì in fondo Vieni qua, Ser Prendo altre due Sono muni Arriva l'orco, ragazzi Prendo io Che sto a fare DPS al lorco Aiuto Sì, ma c'è ragazzi Oddio No, ce l'ho muoio Ok L'ho salvato T'ho salvato Mi hai fatto? Ah no, non è Ma, ma, ma Mare è fullato In the middle Vieni Arriva, arriva, arriva Non ho munizioni di niente, ragazzi Ma è un buon hit Sarebbe bleddy, Mariotino Sono curioso di vedere il danno che abbiamo fatto Abbiamo fatto un danno stra esagerato Lo vuoi preparare per vedere il danno? Vediamo che Li abbiamo fatto Inchei eravamo su one phase Ma l'hanno distrutto I vali I vali della zanna lunare Anche a me Questi vali Perché le armor me le rollo a tutte del merda? C'è una motivazione Hai lì, che l'ho smadato Dovete andare in giro per caso Ehm, guarda adesso Aspetta Vi aspetta i 70 secondi Voglio vedere il danno Ah, ma c'è un altro Un altro casso Vabbè, bella per il dungeon Mi ha dato il casco Bello Guarda, questo cappello è perfetto Sembri quei russi Vabbè, mi ha dato tutte secondarie, raga Mada tu Vabbè Vabbè Vabbè